ciao granata e sono davvero onorato di rispondere all'iniziativa di del principe nicolo garbarino e di redondo cipollino e come vedete anche se a sabato 20 agosto a due giorni preparazione mi sono schierato con molto piacere e perché sono convinto che iniziative come queste ci danno entusiasmo per affrontare quest'anno con lo stesso entusiasmo e ancora di più rispetto all'anno precedente quest'anno sarà dura ma noi ci metteremo ancora più cuore cuore granata detto questo è detto che probabilmente il mio fiato non durano ancora molto passiamo alla nomination perché mi fa piacere che l'iniziativa continui che è dura perché mi piacerebbe nominare tutti quanti dal primo all'ultimo però faccio così nomino i dispersori della nostra porta perché sono troppo importanti per noi come lo sono stati l'anno scorso che sono gabrile caverzaghi anche se quest'anno darà una mano come allenatore dei portieri è sempre fondamentale anche nello spazio e simone di moro mi acquisto della proponte no scusate del ponte x il torchio e il fiato che manca ossigeno e mi acquisto amico di vecchia data e simone valla che sono sicuro che come l'anno scorso dal grandissimo entusiasmo e ci darà una grande mano per fare grandi cose poi mi piacerebbe nominare anche il nostro numero 9 neo numero 9 dirai perché mi fa piacere sono convinto che quest'anno farà bene ed è ale di voto e passiamo invece agli extra calcio con gli extra squadra chiamateli come volete mi piacerebbe vedere una corsetta da romeo tripodina che senza di lui non siamo nessuno ceterina jacopi che anche senza di lei non siamo nessuno e una corsetta mi piacerebbe vederla anche da riccardo gampo visto che direi sempre a una corsetta cosa direi sempre a fare no ciao ragazzi forza granata cuore granata fino alla fine ciao